A meno di 24 ore dalla lettera della Presidente del Consiglio Comunale, Emilia Barrile, che chiedeva nomi sulla definizione del bilancio e ribadiva la necessità, nell'emore dell'assenza dell'assessore Cuzzola, di affidare la delega a qualcun altro, approde in giunza il previsionale 2017. Nel pomeriggio di ieri la Barrile aveva scritto una nota indirizzata al Sindaco e al Direttore Generale Le Donne, manifestando tutta la propria preoccupazione per i ritardi accumulati dall'amministrazione in tema di politica finanziaria e sulle conseguenti negative ricadute sulla città e chiedendo con assoluta e giustificata urgenza, Incombe infatti il termine ultimo fissato dal Ministero al 30 giugno se fossero stati predisposti i bilanci consuntivo e previsionale che il Consiglio Comunale attende da tempo per il corretto approfondimento alla relativa discussione in aula e la sua eventuale approvazione. Oggi la risposta nei fatti è il provvedimento che nonostante i ritardi approva in giunza.